Ciao ragazzi, bentornati sul canale di MCA, mondo carriero allenatori, io sono sempre Andre e oggi siamo qua con un nuovissimo video delle rose nel 2035 e oggi ragazzi se vedete siamo in un giorno un po' diverso, non è domenica, non è sabato, ma è venerdì perché sabato ragazzi, ovvero dopo domani, anzi domani per voi che state vedendo questo video ci sarà un mega sorpresone, un nuovo episodio di MCA intervista e per chi si segue anche su Instagram saprà anche con chi sarà non vi svelo altro, non voglio spoilerarvi nulla, scoprirete tutto domani è uscita veramente una bellissima intervista, mi raccomando ragazzi se volete supportarla attivate la campanella, iscrivetevi al canale che domani ci sarà comunque senza perdere altro tempo, oggi siamo qua con le rose nel 2035 abbiamo praticamente visto le squadre principali in Italia almeno quelle che in teoria possono avere margini, anzi tanto margine di miglioramento da qui al 2035 abbiamo visto che comunque a quanto pare la Roma sarà quella messa meglio quindi sono molto contento che la squadra della capitale sarà al top ma oggi andiamo in Premier League, come abbiamo fatto con le rose nel 2025 andiamo un po' a vedere un attimo tutti i campionati e andiamo un po' in Premier League dall'Arsenal mi ricordo che nel 2025 raga era fortissima e chissà nel 2035, senza perdere altro tempo, andiamo eccoci qua ragazzi, siamo subito in porta con tre portieri abbiamo Unai Simon, Ilia Sobolev e David José Barradas Novais allora Novais, posto portoghese, 75 di overall, 22 anni, con delle statistiche tutto sommato buone poco piazzamento ma 87 rinvio buono, per il resto tutto sommato non male Unai Simon, 37 anni portiere, però in teoria 86 di overall, secondo me è ancora il titolare guardate che statistiche ha 37 anni, ma cos'è? cioè neanche Buffon, voglio dire, ha 40 anni ha queste statistiche e non le aveva neanche 35, quindi tanto di cappello per questo portiere che ha 37 anni, ancora delle statistiche pazzesche e poi abbiamo Ilia Sobolev che è anche lui mamma raga, fortissimo questo ragazzo ha 30 anni anche lui quindi abbiamo due portieri diciamo più o meno vecchiotti ma che sono tutti due molto forti e questo Novais, portoghese, che si sta sicuramente crescendo bene Passiamo al reparto difensivo perché ragazzi l'Arsenal mentre andava un po' a spulciare c'ha dei veramente giocatori interessanti adesso non mi ricordo se è anche qui nel reparto difensivo ma adesso andremo a scoprirlo il primo è Nabil Franchesa-Dolz un terzino destro, 1,79 velocissimo, veramente molto veloce un po' come lo era Beyerine tra l'altro spagnoli uguali quindi secondo me non è proprio un caso che siano abbastanza simili anche un 85 di attore difensiva è veramente fantastico poi Jeremy Frimpong, questo lo conosco questo al momento è un giovane evidentemente è cresciuto bene 34 anni, 85 di overall ma oddio oddio raga mamma mi è venuto un malore ma quanto è forte cioè a 34 anni veramente ha raggiunto l'apice anzi forse l'ha raggiunto prima e ora anche magari un po' in decadenza quindi chissà com'era tipo a 30 anni, 25, 26 anni veramente spettacolare insomma statistiche pazzesche Alvaro Garcia Marin altro terzino destro altro spagnolo un po' più giovane anzi un anno più giovane di Dolz anche lui abbastanza veloce sicuramente molto più forza di Dolz però questo Frimpong raga terzino chi lo sposta da lì cioè è fortissimo Riccardo Silas Gomez Dos Santos Silva brasiliano difensore centrale attenzione ragazzi attenzione 86 di overall 30 anni madre eh 95 velocità scatto 95 elevazione 92 di forza 82 accelerazione 81 lettura difensiva ma cosa sono queste statistiche ragazzi ma perché tutti all'Arsenal o comunque tutti in Premier League sono questi giocatori fenomenali pazzesco ragazzi questo giocatore prendiamo avanti Gorka Leiva altro spagnolo qua tutti spagnoli praticamente 20 anni abbastanza sì un buon giocatore ma poi guardate qua Lorenzo Lombardi eccolo qua un italiano fiero di questo Lorenzo Lombardi 1,91 terzino destro raga è un animale a 22 anni guardate qua 83 accelerazione 81 velocità scatto ma spostate lo difensore centrale che è terzino destro mettete lo difensore centrale che questo è veramente una bomba sicuramente questo del 67 lettura difensiva è un po' migliorabile ma andiamo avanti abbiamo Michael Nines purtroppo si vuole ritirare ma comunque è giovane adesso diciamo sta giocando adesso ci sta che nel 2035 vorrà ritirarsi Uriel Moreno Mecca 24 anni spagnolo tanto per cambiare 74 di over tutto sommato non benissimo rispetto agli altri altro spagnolo difensore centrale cioè ragazzi tutti gli spagnoli sono qua all'arsan guardate tutti sono spagnoli tutti spagnoli questo è veramente forte tra l'altro un 89 91 di elevazione 97 di forza cioè spostalo tu questo qua andiamo avanti oh uno svedese ragazzi 75 di valutazione 24 anni Albert Rinn velocissimo ma ragazzi Frimpong non si sposta e poi Jordan Rivera un messicano 19 anni 72 di overall veloce anche lui ma ragazzi qua vedo tutti i terzini desti ma i terzini sinistri ancora non ne ho visti e non ci saranno a quanto pare anche se c'è questo William Saliba 33 anni difensore centrale 87 di overall raga questo è diventato una best adesso è un giovane mi pare giochi in Francia adesso e guardate qua 33 anni ritornando all'arsenal la squadra sua diciamo quanto cavolo è forte poi abbiamo Paul Mikel Zabarte Moreno altro spagnolo tutti abbastanza nella norma e l'ultimo è Matai Sutalo altro terzino destro ma ragazzi qua sono tutti terzini destro difensori centrali quindi vuol dire che o una difesa 3 o qualcuno deve spostarsi a sinistra eh ragazzi centro campo oh e vedete chi è e vedete chi è il primo che ci mette davanti Tiago Almada Tiago Almada ma che forte che forte ormai tutti lo sanno cosa provo io per Tiago Almada su questo gioco veramente una bestia e in effetti 89 di overall a 33 anni guardate voi le statistiche da soli cioè io non vi dico niente io non vi ho detto niente Anderson Antunes da Silva brasiliano 26 anni 90 di overall eh questo giocatore da dove è uscito ragazzi cioè nel senso chi è questo brasiliano 26 anni è il reggente di chi raga scrivetelo nei commenti raga ha un valore di 115 milioni ma di che stiamo parlando poi Zinedine Badou attenzione Zinedine come Francesca tra l'altro come Zidane 84 di overall l'estero sinistro velocità scatto 93 beh ragazzi 94 i dribbling ma ragazzi c'è questo Arsenal cos'è cioè io ho paura andare a vedere poi tutte le altre squadre della Premier se partiamo così cioè veramente soltanto la difesa dell'Arsenal spaccherebbe praticamente metà Serie A va bene andiamo avanti Lautaro bravo perché quello cattivo è l'Inter no scherzo però comunque un altro argentino 80 di overall il cdc tutto sommato lui forse quello un po' più nella norma poi abbiamo Curtis Ebanks inglese 76 di overall velocino anche lui ma nulla di che Ilari e yuke nigeriano estero sinistro come quello che abbiamo praticamente ai tempi nostri 72 di overall veloce ma nulla di che neanche lui Michael Cashcat inglese anche lui 20 anni sarà un prodotto dell'Academy tutto ok dai statistiche nella norma comunque Isaac Munoz Leon Pagnolo non avevamo ancora visto neanche uno a livello del centrocampo 20 milioni di valore 90 di accelerazione 88 ovvero il tascatto per il resto veramente interessante anche dal punto di vista tecnico ma è veramente veloce anche a 32 anni poi andiamo avanti Manor Solomon 35 anni 77 di overall l'esterno destro beh ragazzi però parliamoci chiaro un attimo di questo centrocampo se ne salvano 2 o 3 comunque Mandela Opoku 20 anni si ok tutto sommato bene e poi Denis Zaccaria ecco forse questo è un altro che si salva anche se ormai anche lui ha 38 anni quindi è diventato vecchiottino anche lui e di questo centrocampo non se ne salvano tantissimi se ne salvano proprio questi primi due che abbiamo visto e anche Zinedine se vogliamo e l'attacco oh almeno qua ci sono soltanto 5 giocatori però dico soltanto ma non avevo ancora visto i nomi perché abbiamo Ozyman e ok ha 36 anni 83 di overall ci può stare ma Troy Parrot che alla fine ragazzi sto ragazzo è sempre in giro è sempre in mezzo in tutte le migliori squadre è sempre in giro Parrot magari lo vediamo essere un po' altalenante ma è sempre in giro 85 di overall è diventato un fenomeno 93 accelerazioni 92 velocità scatto 92 finalizzazioni direi che è diventato un fenomeno finalmente Troy Parrot e poi abbiamo ragazzi Rodrigo eh sì questo giocatore qua del Real è sempre in giro ed è sempre fortissimo 89 di overall ha 34 anni guardate qua 97 velocità scatto 92 accelerazioni 92 agilità e cosa gli volete dire c'è 94 finalizzazioni pure c'è Rodrigo veramente straordinario poi abbiamo Alvaro Salinas Moran spagnolo quindi abbiamo tantissimi spagnoli ma anche uno per ruolo 77 di overall e la madonna 91 accelerazione 91 velocità scatto finalizzazione 74 però molto veloce e poi abbiamo Amadou Traoré un 33 anni francese 19 milioni di valore 82 di overall 90 accelerazione 87 velocità scatto forza 88 finalizzazione 81 veramente un mastino e niente ragazzi cioè siamo arrivati alla fine di questa di questa rosa nel 2035 io sono scioccato cioè è fortissima cioè io se dovesse dare un voto diciamo che alla porta do un 6 e mezzo alla difesa do un 10 raga perché cioè è veramente forte in tutti i ruoli giocatori fantastici è vero mancano i terzini sinistri ma si spostano al massimo io direi allora diciamo che un 9 perché mancano i terzini sinistri a centrocampo ci sono giusto tre giocatori a che mi ricordo buoni do un 7 perché quelli che ci sono sono forti e all'attacco do un altro 8 quindi direi come media siamo sull'8 di valutazione dai 7 e mezzo 8 comunque scrivetemi voi sotto nei commenti qual è la vostra valutazione per questo Arsenal del 2035 iscrivetevi al canale lasciate un mi piace attivate la campanella e ci sentiamo al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti